Buonasera e bentrovati con l'informazione di Teleroma 56, la politica in primo piano, perché si va verso l'approvazione del bilancio capitolino previsionale 2017-2019. Di questo e non solo parliamo in studio con il giornalista Marco Esposito. Buonasera e bentrovati. Buonasera Luigi, buonasera a tutti i telespettatori di Teleroma 56. L'aula Giulio Cesare dunque procede spedita verso il via libera al bilancio dopo l'ok, al dire il vero preoccupato dei revisori dei conti del Campidoglio e il servizio di Benedetta Bertini. Poi commentiamo in studio. È sfida contro il tempo per la maggioranza grillina. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle si sono infatti dati l'obiettivo di approvare la manovra di bilancio 2017-2019 entro il 31 gennaio e così per la seconda settimana consecutiva le sedute vanno avanti ad oltranza. Anche oggi l'aula è stata convocata di mattina e rischia di andare avanti fino a notte inoltrata. Siamo ormai alle battute finali per l'approvazione della manovra, detto ieri la Sindaca. È stato un lavoro incessante e di grande responsabilità che ha visto coinvolti tutti dalla giunta capitolina ai consiglieri. Roma riparte. Inizia una nuova stagione di lotta agli sprechi, di razionalizzazione della spesa, con risorse che saranno destinate al miglioramento dei servizi ai cittadini, al sociale, alla manutenzione e alla mobilità sostenibile. Queste le parole della Sindaca Raggi affidata al solito post su Facebook. Sulla stessa lunghezza d'onda le parole di oggi di Enrico Stefano, presidente della Commissione Trasporti, secondo cui è un bilancio che torna ad investire sul trasporto e comincia a trasformare la città attraverso opere strategiche. Lo che al bilancio è atteso oggi, ma se i tempi non dovessero bastare, il Consiglio Comunale è già convocato anche domani dalle 9. Approvare entro il 31 gennaio non è un obbligo, ha spiegato il presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, in quanto i tempi di legge sono più lunghi, ma in questo modo ci sono 20 milioni in più di spazi di finanza ed è un bel risultato. Una manovra da 81 milioni che prevede 110 milioni di euro di investimenti in più per il triennio. Oggi l'Aula ha approvato l'emendamento di giunta al bilancio. La genesi del provvedimento è stata molto travagliata, prima la bocciatura da parte dell'Oref, poi la corsa dell'Aula per approvare circa 100 milioni di debiti fuori bilancio. Infine l'ok dell'esecutiva e correttivi e l'ultimo parere favorevole, ma con delle riserve e dei revisori dei conti. Dunque Marco Esposito, è solo una formalità ormai, questo ok, stasera, domani mattina, però ormai ci siamo e possiamo già entrare in fase di commento. Le parole della sindaca Virginia Raggi, entriamo in una nuova stagione di lotta agli sprechi e di razionalizzazione della spesa. Come commenti? Beh, intanto sì, è vero, hanno portato a casa il primo risultato, no? Con qualche difficoltà, come era spiegato nel servizio dopo la bocciatura dell'Oref, però, diciamo, in sicurezza i tempi dovrebbero essere rispettati, come dici te, entro stasera probabilmente già dovrebbe essere approvato il bilancio. Poi, diciamo, il giudizio verrà nei prossimi mesi, secondo me, cioè vedremo come queste poste di bilancio saranno realmente utilizzate e che tipo di investimenti saranno fatti sul trasporto pubblico, eccetera, eccetera. È un risultato importante, però anche un risultato di base. Forse era la partita più facile tra quelle che aspetta la sindaca in questa settimana, no? Mi viene da dire, un po' tutto il Movimento 5 Stelle romano, che vive un momento difficile. Anche perché ricordiamo che c'era stato un grosso problema in giunta proprio circa l'assessore al bilancio, quindi questo ha ritardato un po' i tempi, poi la bocciatura dell'Oref, quindi era una partita in salita che il Movimento 5 Stelle porta a casa, ma che, diciamo, non mette in sicurezza la consigliatura, diciamo. Mi sembra ancora presto per cantare vittoria o per lanciarsi al cambiamento, come ha fatto un po' la sindaca. Ecco, l'hai sfiorato l'argomento perché oggi in sostanza era in programma un'altra cosa per quanto riguarda la sindaca Virginia Raggi, il famoso interrogatorio con la procura, inizialmente a Piazzale Clodio, adesso sembra che verrà in una caserma a metà settimana. Prima di chiederti che idea ti sia di fatto di questa vicenda, leggiamo le parole uscite proprio pochi istanti fa del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Paolo Ferrara in Assemblea Capitolina, che dice «Nessun rischio che la Raggi lasci l'incarico di sindaco, finora solo piccoli errori». Diciamo che questa è un po' la tesi del Movimento 5 Stelle anche a livello nazionale, cioè la sindaca ha commesso degli errori, l'errore più grave è quella di essersi fidata di Marra, e diciamo che questo viene ripetuto un po' come un mantra, cioè si è fidata della persona sbagliata perché dopo tutto siamo inesperti, dopo tutto la macchina del Campidoglio è molto complessa, la Raggi, questo viene ripetuto, si è fidata della persona sbagliata, ma ha subito rimediato eliminando Marra appena sono venute fuori le prime magagne. Sicuramente quello che è vero è che il Movimento 5 Stelle in questo momento non è compatto intorno alla figura del sindaco, questa è la partita che sembra un po' più importante, soprattutto a Roma, forse anche a livello nazionale, ma soprattutto a Roma ci sono queste due figure, dalla parte della Lombardi e dalla parte il sindaco Virginia Raggi, che coagulano due modi di essere del Movimento 5 Stelle secondo me, a mio avviso, cioè quello della Lombardi, che è diciamo dura e pura se vogliamo, e quello del sindaco che ha raccolto intorno a sé le forze, soprattutto i vertici nazionali, che capiscono che intorno alla vicenda romana, all'avventura in Campidoglio del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle stesso si gioca una buona fetta di credibilità per quanto riguarda il governo nazionale, e che quindi sono disposti a difendere il sindaco Raggi a spada tratta. La domanda è fino a che punto la copertura nazionale sarà sufficiente per garantire Virginia Raggi. Sotto questo punto di vista, quanto avverrà nell'inchiesta che riguarda Marra e quello che è successo in Campidoglio con la sindaca Raggi, ciò che accadrà su questa inchiesta sarà decisivo per il futuro della sindaca. Se veramente dovesse essere rinviata a giudizio, come alcuni giornali danno per scontato, secondo me la situazione del sindaco si farebbe molto più difficile, molto complessa. Che la Raggi lasci o che comunque ci sia un'autosospensione, ormai possiamo praticamente escluderlo ufficialmente a giudicare dalle parole di Ferrara. Le parole di Ferrara io le riferirei al presente. A oggi non c'è nulla che spinga affinché la Raggi lasci, un'autosospensione o dimissioni o addirittura estromissione al Movimento 5 Stelle. Ma se lei dovesse in qualche modo invece risultare, diciamo così, partecipe di quanto è accaduto in Campidoglio con Marra, sulla nomina di Marra e soprattutto del fratello di Marra, la situazione potrebbe cambiare. Non sono più sicuro che a quel punto le parole di Ferrara sarebbero le stesse. Perché a quel punto si muoverebbe direttamente Grillo. A quel punto si muoverebbe direttamente i vertici nazionali, che fino adesso stanno difendendo la sindaca, stanno facendo quadrato intorno a quello che è l'amministratore più importante, il Movimento 5 Stelle, senza ombra di dubbio, che secondo me mantiene un buon grado di fiducia da parte dei Romani, ancora oggi, e quindi è giusto che si giochino questa partita. Però è una partita nella quale questa inchiesta avrà un peso non indifferente. Per questo l'interrogatorio di mercoledì o di giovedì, insomma adesso vedremo quando avverrà e dove avverrà, diventa fondamentale per il proseguo della consigliatura e della figura di Virginia Raggi. Intanto torniamo sulla fredda cronaca, perché abbiamo ascoltato le parole della sindaca Virginia Raggi, che parla di razionalizzazione della spesa per quanto riguarda il bilancio capitolino, e in aula Giulio Cesare ci si confronta su come verranno effettivamente investite queste risorse. Un tema che divide, ad esempio, è quello che riguarda l'emergenza buca, insomma a Roma conosciamo molto bene. Ne sentiamo Giulio Pelonzi del Partito Democratico e Pietro Calabrese del Movimento 5 Stelle, intervistati da Armando Luca Fioretti. Questa indecisione della Giunta si riflette nel bilancio con una pioggia indifferenziata di finanziamenti che non sono sufficienti a risolvere i problemi, sono così una pennellata che non è sufficiente a dar vita a nuova linfa alla città. Peraltro alcune delle voci, mi riferisco in particolare a quella per le manutenzioni stradali, le famose buche dei romani, sono fondi ricavati da una previsione d'entrata del condono. Signori, segnalo che se ci rifacciamo ai dati degli anni precedenti sulle entrate dal condono, dovremmo dire, come Loref anche ventilava, che quella non è certo una fonte d'entrata certa, per cui nessun municipio potrà fare programmazione per attappare le buche nella propria zona in base a fondi che sono solo presunti ma non certi. Duole dover ripetere sempre la stessa risposta. Noi abbiamo trovato una situazione per cui all'indomani di Mafia Capitale l'ANAC aveva stoppato in un primo momento tutte le gare e poi dopo annullate completamente, quindi è stato fatto tutto un lavoro da quando siamo arrivati noi di ripianificazione di tutte le gare. Le gare stanno andando adesso in porto, a fronte delle gare ci saranno ovviamente gli affidamenti, la città potrà cominciare a vedere questi lavori che partiranno in massa, quindi le strade, soprattutto quelle dei municipi, già sono in parte in lavorazione. Presto partiranno anche sulle consolari, che è diretta competenza, scusate, del Dipartimento, quindi del nostro lavori pubblici. Marco, mi riattacco alle parole di Calabrese e del Movimento 5 Stelle perché è chiaro che questa è comunque una situazione ereditata, è un buco che non può aver creato assolutamente il Movimento 5 Stelle, però torniamo anche alle parole dei revisori dei conti, dell'OREF che parlava di un precario equilibrio finanziario. Allora la domanda è potrebbe rimetterci l'ordinaria amministrazione come ad esempio le buche, le strade? Beh sicuramente, come faceva notare Pelonzi, c'è questo problema, quando tu fai una precisione di bilancio in cui stimi un'entrata, non puoi avere la sicurezza dell'entrata stessa. È un rilievo che ha fatto l'OREF, ma se vuoi, mutandi smutandi, è anche quello che fa l'Europa, l'Italia sui nostri bilanci statali, cioè quando tu in un bilancio metti tra le entrate, adesso semplifico molto, delle entrate che non sono certe, si entra in qualcosa per poi essere riutilizzate queste risorse e tu metti qualcosa sotto un grande punto interrogativo, se vogliamo. Succede a livello comunale, succede a livello statale. Questo perché? Perché siamo in un momento di scarsità di risorse, questo è evidente. A Roma questo problema è ancora più grande, sia perché abbiamo un debito, però là c'è la gestione commissariale, è piuttosto importante, sia perché Roma ha un bilancio molto, molto faticoso, questo lo sappiamo. Sicuramente Roma avrebbe bisogno di grandissimi investimenti, però qua torniamo anche, se vuoi, al discorso di chi magari vedeva nelle Olimpiadi una possibilità di investimento per la città di Roma, soprattutto a livello infrastrutturale. È molto difficile cambiare il volto a questa città, ci vuole tempo, però una cosa la voglio dire, il consigliere del Partito Democratico parlava di una pioggia di interventi senza una regia coordinata. A me quello che sembra mancare un po', non riesco a scorgere in questi primi sei mesi di giunta raggi, è un disegno della città, è proprio una visione della città a lungo periodo, che faccia sì che ci siano delle priorità sulle quali investire sin da subito. mi sembra che ci sia da una parte un po' la gestione dell'ordinario e dell'emergenza addirittura, dall'altra ci sia la volontà con un maquillage comunicativo di piacere un po' a tutti. Ecco, questo mi sembra un po' limitante come politica del sindaco Raggi, che dovrebbe invece cominciare a scegliere quattro, tre, quattro campi su cui investire in maniera importante. Il lavoro, l'immagino, l'infrastruttura della città. Invece per ora mi sembra che si sia ancora spesso e volentieri nell'incertezza. Un po' perché ci sono stati tanti problemi. Per esempio, mi sembra che sullo Stato della Roma faccio questo esempio, perché è un po' anche questo uno dei temi della settimana. Eh sì, tra l'altro, notizia uscita da pochi istanti fa, il Campidoglio ha chiesto alla Regione Lazio altri trenta giorni di tempo a proposito di infrastrutture e di impianti sportivi. Esatto, proprio il trentuno era attesa una riunione... Sì, domani. Esatto, domani, decisoria per quanto riguarda la conferenza dei servizi per lo Stato della Roma. Oggi si chiede un altro mese. Si chiede un altro mese per una serie di adempimenti tecnici. Però l'impressione anche qua è che il Movimento 5 Stelle, dopo la campagna elettorale, dopo la scorsa consigliatura, dopo questa prima parte di nuova consigliatura, anche se ha trasmesso i documenti alla Regione, non sembra aver maturato una decisione definitiva sullo Stato della Roma, che al di là del tifo giallorosso o biancoceleste, che dir si voglia, è un importante investimento per la città, vuol dire risorse economiche, vuol dire infrastrutture, vuol dire posti di lavoro. Sarebbe ora che anche sotto questo punto di vista, su questo argomento, la Giunta Raggi facesse chiarezza, perché non è possibile che dopo sei mesi ancora non abbiamo capito qual è la posizione del Movimento 5 Stelle, abbiamo capito qual è la posizione dell'assessore Berdini, però faccio più fatica a capire quale sia quello della Sindaca e della Giunta. Staremo a vedere intanto, tra i tanti temi che abbiamo già affrontato dall'inizio del telegiornale, i trasporti, perché è stata un'altra mattinata difficile per i romani proprio che utilizzano il trasporto pubblico, questa mattina si è fermata la linea della Metropolitana, per un'oretta, senza pioggia, ci sono stati comunque tanti disagi, intanto l'Atac per migliorare il servizio punta ad aumentare il numero dei controllori, sono però diversi i dubbi dei sindacati. Vediamo il servizio. Che cosa è emerso dall'incontro che avete avuto oggi in Prefettore? Come immaginavamo, nulla, nulla di fatto, l'azienda è ferma e non si trovano risorse economiche per sistemare il trasporto pubblico sul metroferro. Quali sono le emergenze maggiori che avete denunciato? La sicurezza di tutto il personale, mancano i presupposti per la sicurezza. Diciamo per la Roma Viterbo ci sono dei problemi su alcuni dispositivi che non fanno aprire le porte alla parte opposta della banchina in cui si trova la fermata del treno, il condizionamento dei materiali aiutabili, dei treni, che d'estate deve essere ripristinato immediatamente per far fronte al caldo perciò deve essere manutentato in maniera più adeguata e anche dell'attraversamento continuo che si ha sulla linea per quanto riguarda nomadi e quant'altro soprattutto nella zona acilia. Da una parte il tema della sicurezza, dall'altra i nuovi disturbi che hanno caratterizzato la mattinata dei romani che prendono la metro alle 9. Infatti la linea A si è fermata per circa mezz'ora nel tratto tra Battistini e Ottaviano per un guasto. Purtroppo sul servizio pubblico tante sono le lamentere dei cittadini che sottolineano come gli autobus siano fatiscenti e le attese sempre più lunghe. L'ATAC punta ad aumentare il numero dei controllori per recuperare risorse da investire per migliorare il servizio. Diversi anche in questo caso i dubbi dei sindacati. Noi abbiamo una lista aggiornata a novembre di 192 imboscati operatori qualificati alla mobilità ossia il verificatore che non vengono messi in campo. Quindi ci domandiamo loro fanno una ricerca su base volontaria è come se uno dice sei un dirigente e vai a fare il verificatore. Quindi creiamo una disuguaglianza di chi fa il verificatore e quello su base volontaria che percepisce il doppio dello stipendio sullo stesso ruolo. Quindi stiamo proprio alla fantascienza. Forse sarebbe meglio essere onesti tutti quanti. Facciamo una concertazione sana porteremo anche dei documenti e tireremo fuori queste persone imboscate da anni che dovrebbero fare un ruolo e ne fanno un altro in modo che così l'azienda veramente si potrebbe salvare per il bene dei lavoratori e dei cittadini. Intanto vanno avanti le problematiche penso ad esempio al fatto che i lato posto sono sempre pochi poi c'è chi denuncia che ci sia dell'assenteismo all'interno dell'Atac da lavoratore cosa risponde? Assenteismo ancora queste notizie tiriamo fuori perché voglio pensare insomma che allora il mondo degli autoferrotranvieri sono un popolo di pazzi perché dopo che abbiamo avuto un accordo nel luglio 2015 dove ci sottraggono dei soldi nel momento in cui uno è assente allora gli autoferrotranvieri di Roma si assentano appositamente per prendere i soldi sono matti diciamo un'altra cosa che quell'accordo ha aumentato l'euro di lavoro i carichi di lavoro sia per macchinisti e autisti perciò questi assenteismi magari sono anche legati a un problema di maggior aumento delle ore di lavoro perciò a un maggior usura del lavoratore facciamoci questa domanda che forse è meglio e sta parlando proprio in questi istanti in aula Giulio Cesare la sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato proprio dei trasporti ha detto dalla cultura ai trasporti la città ripartirà con l'approvazione del bilancio poi altre dichiarazioni della sindaca riorganizzeremo le partecipate ma no alla privatizzazione e poi diciamo punta molto su questo risultato storico per la sindaca perché da anni non arrivava a Roma un bilancio approvato così presto Marco sì diciamo che il bilancio non è andato proprio tutto liscio non è stata come dicevamo prima era stato bocciato all'OREF però ritornando sui trasporti una cosa che ha fatto questa giunta che non ci aspettavamo forse era quella di dare dei premi ai dirigenti dell'Atac insomma non vedo motivo di premiare chi ha portato avanti questa azienda si parlava nel servizio prima il sindacalista si rifaceva all'accordo di luglio scorso firmato a Rettighieri fatto a Rettighieri che prevedevano aumento alle ore di lavoro ma è stato sconfessato è stato superato da un nuovo accordo che praticamente riporta le cose indietro nel tempo questo è sempre la dobra della giunta del Movimento 5 Stelle sicuramente l'Atac è una situazione difficile che avrebbe bisogno di tantissimi soldi per essere sistemata una domanda una domanda una domanda che mi faccio non riesco a trovare una risposta precisa è su 100 autobus quanti ne escono ogni giorno dalle autorimesse le girano delle voci molto preoccupanti c'è chi parla addirittura di un 30% insomma sarebbe bello avere delle cifre precise sotto questo punto di vista però mi sembra un po' troppo presto per cantare vittoria da parte della sindaca vediamo che cosa succede ora in poi finora nella gestione dei trasporti pubblici io non ho visto passi in avanti sinceramente e sono giorni caldi anche sul fronte della politica nazionale con la tua presenza ne approfitto anche per affrontare insomma il tema della legge elettorale è stata una settimana determinante decisiva dopo la sentenza della Corte Costituzionale ora all'interno dei partiti si continua a discutere di leggi elettorali e di voto anticipato Renzi non sembra preoccupato non sembra spaventato dal voto ma la domanda è sarà lui comunque a presentarsi secondo te? ma guarda paradossalmente se queste due leggi che sono due leggi elettorali una per Camera e per Senato che sono uscite da due sentenze diverse della consulta rimanessero in piedi non ci sarebbe bisogno neanche di un candidato premier da indicare ufficialmente come era con il Porcellum perché poi insomma sarebbe l'accordo dei partiti a decidere soprattutto il governo soprattutto se nessuna delle due forze dovesse arrivare al 40% oggi come oggi Renzi ha dalla sua essendo segretario del Partito Democratico le carte in mano perché essendo segretario può scegliere sostanzialmente lui le liste da fare del Partito Democratico e soprattutto i capilista bloccati quindi loro che andranno sicuramente in Parlamento questa è una tool molto importante perché gli riconsegna il potere una parte del potere almeno all'interno del Partito Democratico rispetto alle correnti perché sarà lui che distribuirà e lascia passare per il Parlamento quindi questo in questo momento ha la forza di Renzi e poi penso che una parte del PD sia consapevole che comunque con Renzi diciamo così i consensi del Partito Democratico possono rimanere alti non penso così alti come immagina Renzi di superare il 40% però comunque intorno al 30% come dicono i sondaggi potrebbe attestarsi il Partito Democratico con altre figure magari meno carismatiche meno conosciute meno capaci da un punto di vista comunicativo secondo me il Partito Democratico rischierebbe anche di prendere di meno visto che comunque vive un momento particolarmente difficile sembra in questo momento quindi stavolta no alla rottamazione questo è il titolo sostanzialmente mi sembra vediamo come ci arriviamo nel senso che il Partito Democratico mi sembra molto in difficoltà in questo momento veramente dilaniato come forse non mai probabilmente alla vigilia di una scissione addirittura quindi è molto difficile fare un pronostico a riguardo a proposito di questo le parole di D'Alema insomma che pensa e parla di un nuovo centrosinistra un movimento a cui dice possono partecipare anche coloro che hanno votato sì al referendum come dobbiamo leggere questa discesa in campo possiamo dire il lancio di un nuovo partito un movimento come va di moda chiamarli adesso anche se D'Alema forse preferisce la vecchia parola partito che mi sembra abbia uno scopo fondamentale che è quello di levare un pezzetto di consenso al Partito Democratico per mettere in difficoltà il segretario farne fallire il tentativo di scalata alle prossime elezioni politiche è quasi un dispetto raccontato così più che un dispetto io penso che una parte di sinistra italiana sia convinta che Renzi sia il male della sinistra stesso poi se abbiano ragione o meno ognuno avrà la sua opinione al riguardo però diciamo secondo molti osservatori di sinistra sinistra che connotiamoli in questo modo secondo molti militanti di sinistra il primo passo per ricostruire la sinistra scusa il gioco di parole è cambiare il segretario del Partito Democratico farlo fuori poi non è una novità nella storia di D'Alema l'ha fatto in qualche modo con Veltroni quando è stato segretario del Partito Democratico l'ha fatto in qualche modo con Prodi quando era presidente del Consiglio in quest'idea probabilmente non è solo anche un pezzo di opposizione interna a Renzi nel Partito Democratico pensa che Renzi sia il primo problema da rimuovere nel PD diciamo facendo così forse anche il gioco del Movimento 5 Stelle e del centrodestra siamo quasi in chiusura e veniamo alle noti dolente per quanto ti riguarda comunque con la Roma che ha perso ieri a Genova contro la Sampdoria veniamo quindi allo sport al calcio vediamo insomma il resoconto il racconto della partita l'analisi di Fabrizio Massantini e poi sentiamo la tua opinione su questa disfatta non è la prima volta che succede per chi crede che ogni squadra abbia un DNA come gli esseri viventi allora è lecito credere anche alle bestie nere e nel recente passato ogni volta che la Roma ha provato a diventare Superman la Sampdoria è stata la sua criptonite così anche ieri a Marassi quando di fronte si trovavano una squadra che non subiva gol da oltre 300 minuti e con un 2017 a percorso netto dall'altra una Samp che non vinceva da dicembre e che nelle ultime cinque partite aveva segnato un solo gol la rete di Bruno Peres in avvio prima in giallo-rosso cinquantesimo marcatore dell'era americana primo difensore a bucare la porta avversaria in campionato aveva illuso che ancora una volta il destino potesse sorridere alla Roma come negli ultimi tempi era sempre accaduto ma le difficoltà paventate da Spalletti alla vigilia erano davvero tutte lì Giampaolo e la Samp intensità e spazi sulla tre quarti velocità idee chiare e pressione altissima se l'idea di lasciare in panchina Manolas per proporre un regista difensivo come Fermailen a posteriori è stata un aggravante aspettavi un belga ne spunta un altro Dennis Bright raccoglie l'invito di Muriel il colombiano sarà pure sovrappeso ma storicamente la Roma non lo prende mai né nel caso specifico l'arrugginito Fermailen ancora meno del solito la Roma soffre come la Sampdoria troppo lunga e sempre in balia delle folate blucerchiate ma attenzione alla fine del primo tempo le statistiche potrebbero ingannare perché alla fine si scoprirà che a tirare di più in porta sono stati proprio gli uomini di Spalletti nella ripresa un leggero calo fisiologico dei blucerchiati permette alla Roma di guadagnare metri mai bella né solida come si era mostrata nelle ultime settimane ma un po' più quadrata dai primi 45 minuti più dentro al gioco una ingolane strotman più convincente perotti a dare in là l'azione che arriva a Dzeko passando per Emerson per il Cigno sono 15 in campionato semplice e concreta forse neanche meritando la Roma al ventunesimo del secondo tempo si ritrova in vantaggio cose che alle grandi squadre ogni tanto succedono peccato che da lì inizia un'altra partita che mette a nudo le fragilità improvvisamente ricomparse dell'assetto difensivo romanista e che regala due scempi arbitrali che per una volta mettono d'accordo tutti i moviolisti Cic si conferma specialista a gara in corso ma anche promettente giovanotto col gol nel sangue segna il 2 a 2 e un minuto dopo smaliziato come i grandi attaccanti devono essere si guadagna una punizione inesistente Muriel calcia benino ma il resto lo fa la spalla di Nengolani in barriera segno che i Santi dopo aver baciato la Roma sono tornati blucerchiati Muriel è evidentemente un conto aperto con i giallorossi la difesa torna a incassare tre gol come non accadeva dal 25 settembre scorso anche la Sampa la sua bestia nera Francesco Totti che entra in campo da par suo regalando giocate di classe e palle sopraffine agli attaccanti e il Sharawi invece entra un po' così come spesso gli accade negli ultimi tempi nel finale il santo blucerchiato si chiama Mazzoleni e la Roma che all'andata aveva ferito di rigore dubbio al novantesimo oggi perisce di rigore non dato al novantacinquesimo come abbia fatto l'assistente a vedere fuori gioco di Dzeko in materia da moviole come abbia fatto la Roma a perdere così a Genova invece in materia per spalletti gli episodi sfavorevoli e il disastroso Fermailen forse non bastano come spiegazioni qualcuno è sembrato stanco e la domanda dei tifosi è chiara basteranno poche ore di mercato a ridare ossigeno alla Rosa Marco Esposito oltre che analista politico valido analista politico lo abbiamo imparato a conoscere in questo periodo anche in campo con Roma e Lazio opinionista e commentatore in particolare delle partite della Roma che cosa è successo alla squadra di Spalletti? Ma con una battuta verrebbe da dirti che la Roma è tornata a Roma cioè è tornata la solita Roma il Maina Gioia sostanzialmente soprattutto quella che sembra avere nel DNA quella di complicarsi la vita perché comunque 2 a 1 al 25esimo del secondo tempo la Roma che abbiamo visto in ultime 3-4 partite di cui forse abbiamo sopravvalutato come spesso ci capita le qualità avrebbe blindato la partita invece è riuscita a perderla anche con un po' di sfortuna però diciamo tutta la partita è stata una partita in tono minore per la Roma hanno pesato sia la scelta di Vermalen che comunque in quel ruolo soprattutto nella difesa 3 diciamo così il braccetto che uno chiama Spalletti di sinistra evidentemente fa fatica e ha fatto una fatica matta su Muriel e secondo me è un po' ha pesato il calciomercato cioè nel senso l'impressione è che comunque il calciomercato sia un po' entrato nei test di alcuni giocatori oltre alle partite ripetute nel tempo che forse hanno fiaccato qualcuno dei protagonisti della Roma penso a De Rossi che comunque ha 34 anni e ieri è stato un po' meno brillante del solito probabilmente la voce di Paredes chi parte chi viene in qualche modo possa aver turbato sia Spalletti che in conferenza stampa è continuamente sollecitato su questo argomento del calciomercato sia probabilmente una parte della squadra che ha letto sui giornali e ha sentito nelle radio che uno di loro un centrocampista cioè il primo sostituto di Strootman e Rossi quindi Paredes sarebbe in procinto di andare alla Juventus quindi alla diretta avversaria quindi per la seconda volta nel corso degli ultimi due calciomercato la Roma andrebbe a rinforzare la diretta avversaria con cui si sta contendendo lo scudetto forse è una cosa che un po' diciamo così può lasciar perplesso e anche l'ambiente giallorosso che ha reggito come un po' lo conosciamo anche in maniera un po' isterica se vuoi però è anche vero che è tanto che non si vince in questa città sulla sponda giallorossa non si alza un trofeo e finché questo non avverrà evidentemente tutto avrà un eco un po' più grande di quello che meriterebbe grazie al giornalista Marco Esposito grazie a voi è tutto per quanto ci riguarda l'informazione di Teleroma 56 torna domani come sempre in diretta alle 19.30 arrivederci